ok ragazzi andiamo subito con un altro gameplay di net for speed e lo so ragazzi avete ragione che per un po di tempo diciamo non ho fatto questa serie è anche vero però ragazzi sono sono concentrato a fare diciamo altre serie come avete visto però dai andiamo avanti qui vediamo un po se posso piazzare qualcosa oppure no ragazzi devo cercare prima di capire quello che ho a ecco aspettate aspettate allora già non ricordavo più vai iniziamo da qui qui sbloccabile no non posso sbloccare più niente lì ecco qui però si è e alzo anche alzo anche il livello quindi compriamo poi magari più avanti compreremo anche qualche altra macchina ragazzi perché io so che voi aspettate che acquisto qualche altra macchina ma vi posso anche capire giusto così vediamo un po qui ok devo fare delle missioni per sbloccare ecco ecco però qui posso tranquillamente vai compro articolo compro tutto ragazzi tanti soldi ci sono quindi il problema dov'è io non vedo problemi non vedo veramente problemi vai andiamo così usciamo dal garage facciamo non so una due gare magari tre non so non so ragazzi vediamo qualche gara comunque la facciamo tranquilli tranquilli ragazzi e qualche gara si fa tranquilli veramente la grande vai vediamo un po qui cosa succede qualche missione magari qualche gara della storia se è sbloccata oppure no sempre se mi ricordo come come andare sulla mappa ragazzi perché c'è anche questo piccolo problemino ok allora vediamo un po ecco qua vedete che mi ricordo tranquilli vediamo un po cosa succede qui è stato pazzesco vai andiamo mostra la posizione sulla mappa è qui che devo andare andiamo qui percorso teletrasporto ragazzi così non si perde molto tempo tanto inutile che perdo tempo a far vedere che faccio il tragitto magari da qui a lì dal lato alla dobbì tanto quello che conta sono le gare e va bene così quindi vai iniziamo iniziamo vai partiamo la grande 43 mila punti maremma vabbè ragazzi 43 mila punti ecco sbagliato per metterla visuale perfetto così eh sapevo io stavo cambiando la visuale ma vabbè fa nulla fa nulla dai li farò 43 mila punti eh la vedo un po pesantina la cosa qui eh la vedo abbastanza pesantina non so se ce la farò non so veramente se ce la farò 682 basta vabbè stuva ah no rimani con il gruppo maremma e allora facciamo una cosa ragazzi faccio riavvia evento perché ho sbagliato ho sbagliato e quindi se non resto col gruppo ho sbagliato strada lì e quindi scusatemi ho messo un riavvia veloce veloce allora devo riavviare proprio l'evento quindi devo riprendere proprio r1 e vabbè vai scusatemi ragazzi purtroppo c'è stato questo questa falsa partenza lì che per cambiarla visuale mi sono perso la strada e poi ho letto che devo rimanere il tuo gruppo vai qua eh ecco il gruppo ragazzi ora si possono fare i punti ora si possono fare vai ora si ora si che va bene ecco 5000 iniziamo già a ragionare iniziamo già a ragionare 7000 ok ok scusate della falsa partenza eh ma a volte sono cose che possono succedere almeno a me succedono aspetta aspetta aspettiamo il gruppo qui che ritornano perfetto è purtroppo è così per far punti altrimenti non si fanno che casino che casino queste missioni così di rimanere per forza in gruppo ma vabbè qualcuno deve buffarlo spero di far 43.000 punti almeno perché 43.100 perché bella derapata bradone uh vabbè ti sei superato ti sei superato bradone sei partito male ma ne stavo scendo fuori bene e ragazzi ho derapato abbastanza bene o no ditelo o no siamo a 29.000 bisogna arrivare a 43.000 e non so i 10.100 lì per ecco qui mi sono giocato una curva ragazzi mi sono giocato eh io me ne gioco un'altra che è il nostro col gruppo è un casino è un casino ora è un casino se non ce la faccio ci riprovo tranquilli ecco 29.000 eh 29.000 ragazzi no secondo me non ce la faccio per 10 checkpoint sono finiti sono finiti checkpoint maremma cinghara eh no non ce l'ho fatta non ce l'ho fatta ragazzi 35.000 35.000 maremma maremma non so se devo riprovarla magari questa gara o lasciamo così ho terminato salta eh vabbè la lasciamo così ragazzi non so non so che dire una cosa è certa che non sono riuscito nell'impresa eh su questo quindi la rifacciamo dai la rifacciamo voglio riprovarci voglio riprovarci e dopo di questo di questa gara ne facciamo un'altra e poi chiudiamo il gameplay ragazzi dai perché perché devo chiudere il gameplay per il semplice motivo che devo chiudere il gameplay ragazzi che devo andare a cucinare ecco vi dico anche questa vi dico ve lo faccio amatoriare il video eh vi dico anche quello che devo fare cioè dai non superare la la sfida per pochi punti vabbè dai ci riprovo ci si riprova brado ci si riprova la grande dai eh perfetto la grande insomma 1830 vabbè pochissimo ho fatto veramente poco eh cos'è mila ma è così bradone su oltre oltre bradone qui eh vado vado in grande stile ora vado in grande stile vai siamo già a 12.000 speriamo bene su ottimo così ottimo ottimo 17.000 crediti facciamoli sti 43.000 dai manchi qualcosina in più riprendiamoci le vendette che ci devono pagare qui dai no devo aspettare il gruppo dai ma ora che vabbè aspettiamo il gruppo ora che andavo bene devo aspettare il gruppo che mi sono allontanato troppo vabbè 23.000 ragazzi quanti checkpoint mancano mancano scusate ne mancano altri 6 eh 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 ci si prova dai ci si prova ci si prova l'importante è riuscirci eh ottimo bradone così eh beh dai ce la posso fare questa volta questa volta ce la posso fare posso farcela ragazzi vai 39.000 dai ce la faccio ce la faccio ce la faccio non c'è storia questa volta questa volta devo farcela per forza ottimo così vai bradone vai 45.000 ho detto che ce la facevo ragazzi questa volta sono partiti un po' male e ora voglio fare anche un altro po' di puntia ok stanno avanti loro io credevo che stava indietro vabbè tanto la sfida l'ho vinta quindi vai così ragazzi 45.889 andiamo avanti e facciamo un'altra gara grande brado così così bradone sai anche di livello magari sarebbe bello e no non si sale di livello ragazzi non si sale di livello vediamo un po' chi mi chiama ok eh certo andiamo dai andiamo ciccia andiamo ciccia che ti spolvero per bene vai mettiamo anche qui il teletrasporto che almeno non si perde molto tempo perché poi perdere tempo equivale a registrare meno che play dai subradone andiamo così che gara è questa che gara è questa non mi dire ancora della pare ma dai ancora della pare basta ma ancora della pare vabbè 25.000 si può fare si può fare 25.000 si può fare vediamo lo spero ecco resta nel gruppo non posso allontanarmi ragazzi non posso allontanarmi ottimo così vai bradone vai bradone così così andiamo andiamo vai già 17.000 si può fare e qui mi piace un record ragazzi ve lo dico qui mi piace un record brado qui mi piace un bel record ve lo piazzo la grande vabbè però dai cazzo accelera se ogni volta devo aspettare te e non posso far punti queste cose a squadre mi danno veramente un fastidio ma veramente un fastidio ragazzi comunque la sfida l'ho già vinta ora vediamo di fare qualcosina in più vediamo di fare qualcosina in più qui dai molto divertente questo Night for Speed devo dire che è veramente molto divertente si mi piace molto mi piace molto posso dirlo tranquillamente ottimo così vai ottimo così bradone 32.000 dai che ci siamo magari arrivo a 50.000 giusto per mettere un record come si deve almeno faccio il doppio di quello che chiedeva dei punti e e sono contento così vale per la sconfitta di prima vai 45.000 ciccio 45.000 lo senti il profumo o no lo senti il profumo o no ho vinto ho vinto ragazzi 49.000 ma vieni ma vieni così e ora voglio salire anche di livello voglio anche salire di livello non sale di livello sarà per la prossima gara allora vai ragazzi facciamo un'altra gara vediamo cosa vuole questa ok allora ragazzi se ci sarà un video non faccio in tempo a fare un'altra gara vediamo un po' cosa succede qui vai il teletrasporto vediamo un po' cosa succede ragazzi se magari ci sarà un video oppure no oppure no non lo so vediamo cosa succede vediamo dai su 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 ragazzi allora ci siamo dove sono sono dentro vai accediamo ragazzi dai che accedo al luogo accedo ok vai vieni qua ti mostro una cosa quello che vedi qui è il nostro obiettivo ma cavolo che c'è che non va va bene senti qua cucchia davanti al gruppo noi tutti dietro sbandando scudando facendo il solito e dal nulla AJ schizza via come un fulmine finiamo sulla I5 AJ taglia lo spartitraffico come se niente fosse otto auto in questo folle treno autostradale ad alta velocità accidenti Rob credevo dovessimo vederci sì vederci qui amico sei venuto anche tu a unirti al circo manda Travis che no no stavo io me ne stavo al diner e ho sentito una voce riguardo una stupida gara sull'autostrada devono aver perso il mio invito ma non è il tuo genere infatti continuate pure divertirvi ok io vado lascia perdere è solo geloso in ogni caso adesso io e te lavoriamo insieme per raggiungere velocità di quel tipo così farò il tuo lo stile di rischi debili ok ragazzi quindi non faremo un'altra gara perché giustamente c'è stato questo video video che ha occupato un po' di spazio no nel gameplay e quindi ragazzi va benissimo così dai allora no ripeti messaggio vediamo un po' vuol dire che sono missioni che ho già fatto ecco tutto qui ragazzi vediamo un po' qui eh si vai cosa faccio cosa faccio ragazzi vediamo un po' vediamo un po' qui sulla mappa cosa c'è se c'è qualcosa da fare oppure no perché sono veramente curioso guardate vi voglio talmente bene che vi faccio una prova a tempo ho detto che chiudevo il gameplay e invece il gameplay non lo chiudo vi faccio anche una prova a tempo ragazzi ecco poi non dite che il vostro brado non vi vuole bene vai il battito della città ragazzi raggiungi il traguardo entro un minuto e 54 secondi vediamo si può fare si può fare non lo so vedremo iniziamo a correre qui un minuto e 54 16 checkpoint insomma è insomma 16 checkpoint non sono pochi ma posso farcela posso tranquillamente farcela posso farcela se gioco bene se gioco male non ce la faccio e quindi è così la via allora questo netball speed posso dire che mi piace mi piace sono ben lieto di continuare questa serie anche se purtroppo un po' a rilento cercherò di portare più gameplay ragazzi non vi prometto nulla ma comunque la serie andrà avanti fino alla fine questo è sicuro è sicuro lo posso garantire quindi state tranquilli che non ci saranno problemi a proseguire avanti vai rispondiamo qui va bene ciccia ci sentiamo dopo ecco qua stavo facendo tutto bene ma giustamente la stronzata va bene ragazzi è andata però checkpoint 15 16 ho vinto ragazzi sono riuscito nell'impresa vabbè è stato facile è stato facile quindi un minuto e 29 va bene così vai vediamo se salgo di livello vai trofeo sbloccato trofeo d'argento vai così vai così livello 25 ragazzi si sale di livello ottimo 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 allora questo gameplay si conclude qui ragazzi si conclude qui ci sentiremo con i prossimi gameplay di nade for speed più altri giochi che sto facendo qui sul mio canale come sempre vi ringrazio tutti per il vostro fantastico supporto e tranquilli che andremo avanti con nade for speed alla grande ciao a tutti ragazzi ciao a tutti i prossimi ciao a tutti i prossimi